No! Ho letto molto sull'argomento, ho preso conti di prima mano, critiche teoriche, antropologiche... Hai mai assistito a una danza della pioggia? L'ho vista qualche volta al cinema. Ah, grandioso! Senti, devo scappare, devo farmi operare al cervello da un tipo che ha visto iar. Non riesco a crederci, abbiamo perso più di un'ora qui a prenderci in giro a vicenda. E io cosa c'entro, uomo bianco?